E' stata una partita, temevamo molto perché con il nuovo allenatore, da cinque giornate tre vittorie e due pareggi, imbattuti, un gol preso, quindi era una partita che temevamo molto e devo fare i complimenti ai ragazzi, ma soprattutto perché stiamo vivendo delle situazioni un po' paradossali, è una settimana, settimane difficilissime, anche oggi si fa male Thomas, entra Pogliano, c'era anche Pogliano, quindi oltre emergenza in attacco, emergenza in difesa, però devo dire che questi ragazzi vanno a mille, veramente, sono grandi soddisfazioni perché, ripeto, venire qua e dominare in questo modo dopo un inizio magari un po' difficoltoso come è normale che sia, sapevamo che i primi 10-15 minuti li avrebbero fatti al massimo, però, ripeto, contro una squadra così in salute, venire a fare questo tipo di partita è veramente una grande cosa e devo fare i complimenti. Sì, non abbiamo concesso tiri in porta, puliti, qualche mischia nel primo tempo, ma tiri in porta concessi praticamente neanche uno, perché credo che Filighetto non abbia fatto una sola parata, quindi questo, ma questo è sempre stato un po' nostro costante, a parte un paio di partite abbiamo sempre concesso poco e siamo tornati anche a segnare tanto e questo è importante. Quando sei stato in un posto è chiaro che c'è sempre qualcosa di diverso, però non c'erano particolari pensieri, ecco non so Danilo, ma credo neanche lui, insomma la partita, per noi siamo concentrati sul nostro obiettivo, sul nostro cammino e dove andiamo non ci interessa, dobbiamo cercare di vincere le partite e cercare di giocare in questo modo. Ma lo sappiamo, ho detto si deciderà alla fine, me lo dicevo anche quando eravamo un po' più avanti come margine, ma lo sapevo, è un campionato difficilissimo e dobbiamo cercare di mantenere questo ritmo che non è facile mantenere, perché vediamo che la media punti è altissima, però gli avversari dietro stanno facendo bene e dobbiamo insistere. Sì, oggi è stata una grande prova da parte di tutta la squadra su un campo difficile, comunque loro era una squadra che arrivava da una serie molto positiva e si è stati molto bravi. Sì, si è sbloccata subito, poi comunque si è stati bravi nel gestirla e concludere al meglio le occasioni che abbiamo avuto. Sì, sto abbastanza bene fisicamente, il gol oggi è stata una cosa in più, comunque diciamo che ne soffrivo un pochettino, che ero un po' in difficoltà su questo lato qua e oggi è andata bene. Abbiamo visto, dietro non mollano, noi continuiamo a fare il nostro e poi dietro vedremo loro cosa faranno, noi continuiamo su questa strada e che è quella giusta.